Ennesima aggressione, i danni di un operatore sanitario all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dopo gli episodi violenti registrati in agosto ed ottobre. Stavolta ad essere ferita la dottoressa Maria Carmela Calindro. La donna stava lasciando il presidio al termine del turno di lavoro quando sarebbe stata colpita al collo con un cacciavite da un uomo, Luigi Amoruso, cinquantenne disoccupato del luogo. L'aggressore l'avrebbe accusata della morte di una congiunta. La dottoressa, ricoverata in codice rosso nel reparto di medicina dello stesso nosocomio, non sarebbe adesso in pericolo di vita. A scongiurare conseguenze ben più gravi sarebbe stato il provvidenziale intervento in sua difesa da parte di un venditore ambulante extracomunitario, Mustafaa Elauti. L'uomo di origine marocchina l'avrebbe protetta bloccando il suo aggressore sino all'arrivo della polizia di Stato che lo ha condotto in questura. L'uomo posto in arresto è adesso accusato di tentato omicidio. Erika Consolo per la Cineus 24.